Oggi è martedì e c'è il nostro tradizionale appuntamento con Angelo Mauro Calza, con la nostra rubrica Presi dalla rete. Stamattina cosa abbiamo preso dalla rete, in questa settimana comunque? Buongiorno innanzitutto, iniziamo con l'economia. Questa settimana iniziamo con l'economia, vedete questi titoli. Sappiamo che la crisi persiste, ma quando inizierà la ripresa? Bene, nel 2008 Confindustria la pronosticò nel 2009, Berlusconi nel 2010 e poi nel 2011, Draghi nel 2012, Mondi nel 2013, poi ancora Draghi nel 2014, Monti nel 2013 e Draghi nel 2014, mentre Loxe l'ha pronosticata per il 2015. Beh, se le cose stanno così, lo scoop lo faccio io, infatti vedete questo altro titolo, Calza, la ripresa ci sarà nel 2016, nel 2017, nel 2018, penso che non è poi una cosa tanto difficile da pronosticare. Ma veniamo invece al governatore Pittella, il governatore Pittella che all'indomani della proclamazione di Matera come capitale della cultura del 2019, ebbe modo di lanciare questo tweet. Vedete, vince Matera, stravince la Basilicata e il Sud. Ci credevamo, ce l'abbiamo fatta ed io non trattengo le lacrime. Beh, c'è scritto con C apostrofo e con l'accento, dopo questo tweet, le lacrime non le trattengo io e cerco di recuperare la cultura che nel frattempo sarà scappata chissà dove. Nel frattempo veniamo anche a due notizie che ci sono state segnalate da alcuni che cominciano ad essere i nostri fedeli ascoltatori. Vedete, un esempio di spending review, piuttosto che di grassi, ce lo dà il titolo di Basilicata 24. Vedete come hanno scritto tutto a posto. Mentre invece dobbiamo ringraziare la gazzetta del Mezzogiorno. Il 31, il giorno dopo il nubifragio che ha colpito Potenza, ci ha fatto scoprire che a Potenza c'è il fenomeno dell'acqua alta, soffitte allagate. Da Repubblica invece vediamo un titolo che ha bisogno di pochi commenti. La polizia multa l'auto di un vigile, i vigili ne multano 30 davanti alla questura. Sempre da Repubblica ricorderete che un anno fa ci fu un aereo che scomparsi in circostanze molto misteriose. Vedete invece che la Repubblica, titola dando maggior enfasi proprio all'aereo che è disperso, pare che ci sia un giallo sul pilota e la ex moglie, titola, era smarrito. Per concludere, tre certificati medici. Il primo, vedete come hanno scritto Peacemaker, Pay, Smacker. Andiamo al secondo. Hanno dimenticato una S. E il vero capolavoro invece sta nel terzo. Vedete, nevralgia del trigessimo. Come dire che questa persona, più che dolorante, era molto addolorata. Grazie, grazie. Questo è tutto, vi ringrazio. Alla prossima. Grazie, grazie Angelo Mauro Casalo.